Fase 2 emergenza Covid-19 a Palagonia, bilancio del lungo lockdown. La città ha insomma risposto bene rispettando le regole anti-contagio, motivo per cui le misure di prevenzione adottate hanno retto bene. Il sindaco Salvatore Stuti, nel rispetto dei vari decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e all'ordinanza del Presidente della Regione, aveva emanato un'ordinanza con cui aveva istituito il cosiddetto COC, Centro Operativo Comunale per gestire l'emergenza coronavirus e contenere la pandemia. L'assessore comunale alla Polizia Municipale Daniele Vintrici. Abbiamo affrontato l'emergenza Covid-19 sin dal primo momento, istituendo innanzitutto un numero di telefono di emergenza per quanto riguarda il nostro comune. Tutti i coloro avevano dei sintomi o insomma c'era qualcosa di riferimento al Covid-19, venivano registrate e poi veniva istituita la quarantena o da parte della persona stessa oppure veniva imposta. E quindi attraverso poi la Polizia Municipale abbiamo fatto, abbiamo istituito anche il Centro Operativo Comunale che ci permette appunto di avere tutte le notizie sia dall'ASPE. A Palagonia nella Fattispecie non si sono registrate particolari situazioni di emergenza sanitaria, solo due i casi di positività al virus ma che hanno ricordato altrettante persone che hanno fatto rientro in città da fuori regione ma si sono messi in auto quarantena nel rispetto delle norme in materia. In realtà noi abbiamo avuto solo due casi di positività di persone che sono venute da fuori che si sono messe in auto quarantena e che fortunatamente sono riusciti in maniera intelligente a fare la quarantena come prevede la legge, tant'è che sono riusciti a non infettare neanche la moglie. Quindi stiamo parlando di persone veramente per bene intelligenti.